Benvenuti su MyFootballJersey! Oggi torniamo in Inghilterra e vedremo la seconda maglia del West Ham per la stagione 22-23 in edizione FUN! Prima di lasciarvi la parte in cui vedrete i dettagli vi prego di mettere un like al video e di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati. Ci vediamo dopo! Il club ha rilasciato la nuova maglia away a giugno che sembra essere un ritorno al passato ai primi anni 90. La maglia away dell'Umbro West Ham United 2022-23 ha un design moderno su base nera completato da polsini delle maniche multicolori. Tutti i loghi sul fronte sono in bianco monocromatico. Ciò che rende unica la maglia da calcio away Umbro West Ham sono i polsini delle maniche. vantano un disegno geometrico rosa bianco e celeste. L'ultima volta però che abbiamo avuto una maglia nera da trasferta è stata nel 2017-2018 che aveva caratteristiche celesti sulle spalle e per lo stemma del club. Siete qua? Secondo me la maglia nella sua semplicità è bella, piacevole. Nella mia classifica questa prende 4 stelle. Adoro le maglie scure. Questa è un po' semplice se vogliamo però la rifinitura diciamo sul bordo manica gli da quel qualcosa in più e quindi nella mia classifica prende per appunto 4 stelle. Il costo lo vedete qui sopra bassissimo e su questo non si sbaglia. La spedizione è stata veloce, è arrivata in meno di 20 giorni e la qualità direi ottima per una maglia che costa il prezzo che avete visto. veramente veramente consigliato andare a acquistare su JJ Sport. Qui in basso trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia e tra l'altro trovate un link per poter ottenere anche un coupon di 3 dollari aiutare il canale ad avere, a fare altre recensioni in futuro. Ora prima di lasciarvi alla parte in cui vedrete la vestibilità vi prego di mettere un like e di iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ciao! Io sono alto 1,75 e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan.